Il sistema di controllo vocale Cortana di Microsoft è stato ampiamente utilizzato in Germania fin dal lancio di Windows 10. Tuttavia, l'assistente vocale preinstallato è ancora sottovalutato da molti utenti. Abbiamo verificato quali dispositivi e servizi sono già compatibili con lei. Cortana si sta spingendo sempre di più nel settore della Smart Home Microsoft. Cortana è in competizione con Siri, Alexa e Google. Esistente nel settore della Smart Home l'altoparlante Cortana Harman Cardon Invoch integra i PC Windows Cast Club collega Cortana. Con i dispositivi ZigBee, Z-Wave e KNX pulsante Bluetooth satachi portatile, Cortana da portare con sé le cuffie Bluetooth Jabra Elite. 25esime si collegano a Cortana tramite un pulsante vocale collegare i prodotti compatibili con Cortana con i FTTT app compatibili con Cortana. Da Fitbit a Spotify consigli di lettura sull'argomento Cortana e Microsoft Cortana è in competizione con Siri, Alexa e Google. Esistente nel settore della Smart Home. Chiedere a Siri indicazioni stradali o gestire appuntamenti con Alexa fa da tempo parte della vita quotidiana di molte persone. Ma quasi nessuno si rende conto che anche Cortana ha molto da offrire. Al mattino ci sveglia all'ora desiderata e su richiesta ci fa ascoltare la nostra playlist preferita per la colazione. In ufficio, ad esempio, Cortana ci aiuta a creare elenchi di cose da fare o voci di calendario, ad aprire Word o PowerPoint su richiesta o a salvare appunti. Dopo il lavoro, ci mostra il percorso e il tempo di percorrentza per raggiungere i ristoranti o i negozi del nostro quartiere. Cortana può anche raccontare barzellette o rispondere a domande. Ma cosa c'entra tutto questo con le case intelligenti? È semplice. Microsoft ha recentemente iniziato a collaborare con la piattaforma IFTTT, rendendo molto più semplice l'utilizzo di Cortana. Come sistema di controllo delle case intelligenti, la panoramica che segue mostra quali altri dispositivi sono compatibili con essa. L'altoparlante Cortana Harman Kardon Invoch integra i PC Windows. Oltre all'integrazione di Cortana in Windows 10, c'è anche uno smart speaker chiamato Invoch di Harman Kardon, progettato per rendere Ancora più comodo il controllo vocale di Cortana. Ciò significa che non è necessario avviare il computer o il tablet per richiamare rapidamente informazioni importanti. Inoltre, 3Wufer e 3Twitter garantiscono una qualità del suono nettamente migliore rispetto alla maggior parte dei computer, con riproduzione audio standard. Di conseguenza, nei vari test condotti dal nostro team editoriale sul computer, Cortana a volte non riusciva a comprendere correttamente i comandi vocali, anche con un rumore ambientale medio. Con Invoch questo problema dovrebbe ridursi. L'altoparlante intelligente Cortana può anche essere utilizzato per avviare telefonate in viva voce tramite Skype. Harman Kardon Invoch è disponibile in nero o argento, Harman Kardon, Microsoft, dati tecnici, Altoparlante Cortana Harman Kardon Invoch, dimensioni, 10,7 x 24,2 cm peso, 1000 grammi woofer, 1,75-45 mm, X3 Twitter, 0,5-13 mm, X3 4,1 Bluetooth 802,11 BGN, AC 2,4 GHz 5GHz. L'Harmman Kardon Invoch è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e costa circa 100 dollari. Se volete comunque approfittare dell'alta qualità audio e ordinare l'altoparlante Cortana da un rivenditore terzo per circa 170 euro. In Germania, dovete sapere che la funzione Skype non può essere utilizzata qui. Questo perché le chiamate Skype controllate da Cortana tramite l'altoparlante Invoch sono attualmente possibili solo tra America, Messico e Canada. Inoltre, l'altoparlante intelligente può essere configurato solo su un computer e solo se l'opzione di lingua inglese è selezionata come regione. Ulteriori informazioni su Harman Kardon Invoch sono disponibili sul sito web del produttore Harman Kardon. Castlube collega Cortana con i dispositivi ZigBay, Z-Wave e KNX. Castlube, che si basa su script C-Cancelletto, può essere utilizzato anche senza cloud. Ciò significa che gli utenti sanno sempre esattamente dove si trovano i loro dati e che sono esclusi gli attacchi degli hacker. Inoltre, un'interruzione di internet non può danneggiare il sistema locale. Il sistema operativo del Castlube, Castleos, supporta un numero particolarmente elevato di standard wireless. Può essere utilizzato per collegare componenti ZigBay, Z-Wave e KNX, tra gli altri. In pratica, ciò significa le luci Philips Hue o Osram Ligshefy possono essere controllate tramite Castlube, così come i rilevatori. Diffumo Nest, i termostati EcoBay, gli altoparlanti sono se molti altri marchi popolari. Sono compatibili anche, Netflix Amazon Instant Video YouTube Plex Android iOS Windows 10 BlackBerry. Questo ab è destinato a sostituire tutti gli altri elementi di controllo, Kessol, grazie alla connessione a Windows 10. Con il Castlube è possibile utilizzare anche i comandi vocali di Cortana. Costo, 499 dollari, circa 404 euro. Dati tecnici, Castlube per Cortana, WLAN 802.11ac Bluetooth 4.0 HDMI e DisplayPort lettore di schede 4 in 1 Intel Celeron. 2957U30GB SSD, 2GB RAM Gigabit Ethernet pulsante Bluetooth Satechi portatile. Cortana da portare con sé. Se non avete voglia di tirare fuori dalla borsa il vostro computer o tablet, potete semplicemente collegare i vostri dispositivi Windows. Alzatechi Bluetooth Button. Il pulsante può essere fissato al manubrio dell'auto o della bicicletta utilizzando il supporto in dotazione o, in alternativa, può essere utilizzato come portachiavi. È abbastanza piccolo da poter essere riposto in una tasca dei pantaloni o in una borsa e viene semplicemente collegato al dispositivo. Desiderato tramite Bluetooth. Il piccolo pulsante Satechi funge da telecomando vocale Cortana, Satechi Amazon. Il pulsante Bluetooth Satechi compatibile con Cortana. È attualmente così popolare che è già esaurito presso alcuni rivenditori tedeschi di Amazon. Tuttavia, è ancora disponibile presso alcuni di essi al prezzo del produttore di 29,99€. Dati tecnici, Satechi Bluetooth Button per Cortana. Dimensioni, 15x5x8,5 cm peso, 81,6 grammi. La batteria CR 2016 dura fino a due anni. Alloggiamento in metallo realizzato in alluminio supporta iPhone X8 Plus 8 7 Plus 7 6 Plus 6 5, Samsung Galaxy S8 S7, MacBook, MacBook, Pro, iMac, iPad Pro, R, barra mini e molti altri dispositivi. Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili sulla home page di Satechi. Le cuffie Bluetooth Jabra Elite 25 esime si collegano a Cortana tramite un pulsante vocale. Cambiare la selezione del brano durante lo sport a volte può essere piuttosto complicato. A meno che non abbiate le cuffie Bluetooth Jabra Elite 25 esime con connessione a Cortana, basta un comando vocale perché le cuffie intelligenti rispondano a ogni vostro desiderio. Sono inoltre resistenti all'acqua, alla temperatura e alla sporcizia, sono multiuso e la loro batteria può durare fino a 18 ore. Il pulsante vocale delle cuffie può anche collegarsi a Siri o Google Now, Jabra Amazon, le cuffie Bluetooth Jabra Elite 25 esime, compatibili con Cortana, sono disponibili presso il produttore Jabra a 79 euro e 99 centesimi. Attualmente sono leggermente più economiche su Amazon e costano circa 70 euro. Dati tecnici, cuffie Bluetooth Jabra Elite 25 esime dimensioni, 48,3 cm x 17,9 cm x 23 cm autonomia della batteria, fino a 18 ore archetto. Da collo, H 15,7 cm x L 14,1 cm x P 3,5 cm funzioni, avviso di vibrazione per le chiamate, cuffie magnetiche in ear, pulsante vocale, risposta, fine virgola barra rifiuto chiamata, composizione vocale, ricomposizione dell'ultimo numero, controllo del volume, controllo del brano. Musicale, riproduzione, pausa, guida vocale collegare i prodotti compatibili con Cortana con IFTTT. In combinazione con un account Microsoft, è già possibile creare applet IFTTT per Cortana, almeno negli Stati Uniti. Queste applet controllano le reazioni dei dispositivi compatibili a determinati stimoli ambientali o parole in codice come Scenario IFDEN. Ad esempio, se l'assistente vocale di Microsoft riceve il comando I Cortana, Start Party Time, può far lampeggiare diverse lampade Philips Hue e visualizzare contemporaneamente clip musicali su un televisore Harmony. Molti fornitori di terze parti sono compatibili con Cortana tramite IFTTT piattaforma IFTTT. Altri possibili scenari di Cortana con IFTTT sono attivare una sirena SmartThings quando il rilevatore di movimento viene attivato. Spegnere tutte le luci Philips Hue, LIFX e, o, Yiligta un'ora specifica. Azionare i termostati Honeywell Iric con comandi vocali Avviare una macchina per il caffè con un adattatore UEMO o TP-Link Quando ci si alza al mattino far pulire un aspirapolvere Robo Samsung a un orario specifico Attivare o disattivare l'irrigatore per prato. Rachio su chiamata bloccare o sbloccare una serratura elettrica Interagire con un veicolo BMW utilizzando i comandi vocali di Cortana. Vasta selezione di prodotti elettrici Conarad Electronics Da Conarad Electronics troverete oltre 750.000 articoli e un'ampia selezione di prodotti per la casa intelligente. Ce n'è per tutti i gusti. Tutte le applet Cortana IFTTT esistenti possono essere richiamate nella pagina panoramica Cortana IFTTT. Il prerequisito è l'accesso tramite un account Google o Facebook. App compatibili con Cortana, da Fitbit a Spotify. Oltre ai prodotti esistenti, Microsoft offre anche alcune app scaricabili gratuitamente per tutti i fan di Cortana. Queste includono Audible, applicazione per la riproduzione di audiolibri e radio Fitbit Netflix Spotify musica Ted Scatola degli. Orologi consigli di lettura sull'argomento Cortana IFTTT. I link contrassegnati con sono i cosiddetti link affiliati. Se viene effettuato un acquisto tramite tale link, riceveremo una commissione. Non ci sono costi aggiuntivi per voi. Non ci sono costi aggiuntivi per voi.